Il mio nome è Lorenzo Orsetti, mio codoname è Tecocher, sono d'Italia, di Florence. Sono nato in Bagnaripoli, 13 febbraio 1996. Fiorentino di Rifredi, 33 anni, Orso è il crociato italiano ucciso dall'Isis durante un combattimento a Baguz, l'ultima roccaforte degli estremisti in Siria. Bello, simpatico, apprezzato ed amato da chi gli stava a fianco e oggi lo ricorda tra un misto di rabbia e commozione. Lorenzo dopo il diploma aveva lavorato per 13 anni nell'alta ristorazione, dal cameriere al sommelier fino alle esperienze come cuoco. Mi sono avvicinato alla causa kurda perché mi convincono gli ideali che la ispirano, vogliono costruire una società più giusta e più equa, raccontava chi gli chiedeva della sua scelta. L'emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l'ecologia sociale e naturalmente la democrazia. Per questi ideali sarei pronto a combattere anche altrove, in altri contesti. Poi è scoppiato il caos ad Afrin e ho deciso di venire qui per aiutare la popolazione civile a difendersi, spiegava Deciso in una delle tante interviste dal fronte. Eh sì, perché Lorenzo, oltre un anno e mezzo fa, lascia la sua vita di tutti i giorni e parte. Si arruola con le truppe kurde delle unità di protezione dei popoli, gli EPG. Le milizie impegnate nell'offensiva nell'est della Siria con le forze siriane democratiche. I suoi compagni gli attribuiscono il nome di battaglia di Tekosher, il lottatore. Partecipa alla liberazione della città di Afrin da l'invasione dei miliziani dello stato islamico. Sceglie di imbracciare le armi e combattere per i valori di giustizia e libertà, per la difesa dei popoli oppressi. Lorenzo Orsetti non è un fanatico religioso né un foreign fighters. Fa una scelta, coraggiosa, folle, suicida, incomprensibile a molti. Andare a combattere per dei valori. Quasi fosse fuori dal tempo in cui viviamo. Orso, partigiano senza confini. Già a tempo che voleva fare questa cosa, tre o quattro anni fa l'aveva detto, io gli avrei riuscito a, insomma, in quella occasione l'avevo convinto a non andare. Però dopo due anni mi ha detto, bisogna fare qualcosa. E bisogna fare qualcosa è stato questo. Insomma, ha fatto qualcosa, sinceramente. Se non altro ci ricorda che lì c'è una guerra, no? Noi siamo tanto... Quando a Natale ci chiese i soldi per un ciubbotto antiproiettile e ne parlavo con uno dei culi qua in Toscana, mi disse, guarda che i nostri c'erano tutti ciubbotti antiproiettili. Mi sentì veramente una merda, mi sentì perché dissi, è vero c'è una guerra, lì ci è vero c'è una guerra, lì ci chiede, è vero c'è una guerra, lì ci chiede.